il destro è potente e però si perde presa a due mani, forse storia, assolutamente da vincere, parte Nathan, il destro, il destro sembra buono, il centro è valido di Nathan, 6 a 0 per la Lazio, schieraggia mia, ottimo la spinta la Lazio, come spiegarsi da fuori il pallone calcio di Nathan, 12 a 0 si alza bene ma si perde al lato brava 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 hyvä sshhh 2 1 1 1 1 Signale Enzo La La 5 2 Grazie. Grazie.